Sì Oh che c'è da fammi provare Ma è roba buona socio guarda qua Tutta roba di primissima qualità Fammi provare questo Se no c'ho pure questo Una bomba che è arrivata in settimana Sì Dai fammi questo Quante ne vuoi? Fammi le 5 Sono 5.50 Lascio Fammi che non ci piava Scopo Bello E' in ritardo Scusa Scusa il mio capicolo che mi è successo Costa Questa costa Posso passare? Parti via va Scusami Dovrei fare una telefonata Telefonsa di là Muoviti Scusami 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 Se lo disinuco Il caviale è dentro casa mia Il caviale sarà venuto a fare Immediatamente portiamolo fuori Andiamo fuori More Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo ... ... Buon appetito, spi, attaccami un po' questa roba, ti dispiace? Ma chi è questa faccia la stocca fisso? Lascia averle, fallo per favore perché ci serve veramente una mano, come no? Grazie, comunque la scarpa potremmo anche recuperarla E' un po' sulla pineta, ma perché? E' fulbo Noi, non? Noi, non? Noi, non? Noi, non? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Di che? Di che è col pane? Di che è questo? Di che? Beh No? Come se non è meglio di fare un bel bagno? Qua Non fai? E tu pensi sempre a mangiare? Non fai? Non fai? Non stai avanti 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 Guarda la caperta Non mi fai sevolgare che poi Perché? Che devo fare? Ma come che ti voglio fare? Un cazzo Ma Ma Tu fai? Tu fai? Ma tu fai? 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 Pronto! Stille Stellina Ciao Ciro Dove? Sì Ok Dai andiamo andiamo dai 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 cazzo Eccolo prova Cazzo Guarda Guarda E' terminata di delinquente Sì Dai su Ma che volevi dimostrare? Cammina Salame Avanti Tu hai tanti problemi non lo sai? Ah quando l'hai da la pressione a chi sta? 220 100 E chi ti accida a te? Guarda Sei troppo buo Stai con il manone con questa Pensandoci buono Ti potessero riparare le pillole Ma sei troppo buono A te non ti servono Quindi dottore Non ho capito Sto bene o sto male? Allora forse non ce l'ha mai capito A ieri ha venuto una paziente che teniva 100 su 60 e oggi è morta Tu tieni 220 su 100 Sei troppo buo Sei una meraviglia Non ti preoccupare papà Fa fammi Non ti preoccupare Ma va a te che hai un cacco fa Ci vorrei ma non ti preoccupare Vai con io Non ti preoccupare Non ti preoccupare Va a te va Grazie dottore Ciao Buonasera Tanto da Natale non ci arrivi Come dottore? Satti buono Satti buono Non ti preoccupare Ciao Buonasera Del manzo? Eccoci Adesso le misuro la pressione Morbido con il braccio Giù Così Adesso le misuro La reazione pupillare Ops Buon culo per me Gli occhiali se li deve togliere per un motivo serio Apre gli occhi Direi che è reattiva L'ascolto un po' dietro la schiena E non sbuffi Faccia dei bei respiri Di più Dica 33 Dica 33 33 Il ragazzo è in perfetta salute Allora dottore Cosa ci dice? Ogni uccano può cosa aiutare Chi si sta buono Pagano? Ma dottore ma noi ci siamo rivolto al migliore E lei ci dice così Cioè Noi che dobbiamo fare? Non sappiamo più che fare veramente Cioè Pazzanna c'è buono La soluzione per cui è la detta Pagano Non è possibile Pagano Grazie a tutti.